Musica Salve a tutti strambi e benvenuti in questo nuovo video Io sono sempre Sequestion e siamo ritornati finalmente nella rubrica dove vi parlo delle materie che ho studiato all'università, di come sono andate, di cosa ho imparato, cosa mi hanno insegnato, cosa mi hanno lasciato Questo giro è il turno di psicologia dello sviluppo e dell'educazione Prima di iniziare vi ricordo di seguirmi su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati, guardare i web monthly favorites e leggere il weekly postaggio e che se volete supportare il mio canale potete farlo dando un'occhiata al link Ko-fi e Vinted in descrizione e che potete anche chiedermi una commissione su Fiverr Diciamo che era una materia che fin dall'inizio mi ha molto interessato Non ci sono stati, devo dire, davvero degli aspetti che ho detto wow Cioè sì, ci sono stati degli approfondimenti che ho detto figo, funziona in questo modo Abbiamo studiato per esempio i stili di attaccamento, insomma cose molto importanti durante il corso della vita Ho notato, diciamo, un po' che mancasse una sorta di risvolto pratico Abbiamo fatto tante cose che riguardano tanta teoria Ma nella parte pratica non so, non c'erano molte idee sui scontri pratici Non so se mi avete capito Studiare i profili motivazionali oppure gli stili di attaccamento sono molto importanti Anche molto interessanti Ma come gestirli? Come strategie tecniche? Come gestirli o prevenire certe cose? O aggiustarle? Diciamo che da questo punto di vista sì, ok, so che c'è questo E come mi muovo al riguardo? Mi è piaciuta in particolare la parte in cui si è parlato dei fattori di rischio I fattori di protezione, cioè praticamente i fattori di protezione sono momenti cruciali della nostra vita In cui ci fortifichiamo, diciamo, veniamo gratificati, aumenta la nostra autostima Grazie anche al contatto fisico ci sentiamo amati E più sono fattori di protezione, quanto più contrastano i fattori di rischio Che invece sono quei momenti in cui subiamo delle delusioni, dei fallimenti E appunto viene bilanciata la cosa Molto figo, molto figo anche quando abbiamo parlato dei vari disturbi dell'apprendimento Che per intenderci sono dislessia, discalculia Uno che non conoscevo proprio era appunto il disturbo sulla comprensione del testo Che io non conoscevo proprio E' stato molto figo parlare di questi disturbi Perché diciamo che quando non li conosci E senti parlare le persone al riguardo Il mondo si splitta fra No vabbè, non fa nulla, cioè si è uguale, ce l'hai, non ce l'hai, uguale Oppure a trattarlo come se fosse una malattia invalidante Quando, no, insomma, non è esattamente in nessuno dei due modi Cioè, semplicemente uno poi deve adottare delle strategie Deve adeguarsi Ma per il resto, diciamo, non è nemmeno invalidante Ma, diciamo, c'è da muoversi tenendone conto, insomma Se uno non ci vede bene ha bisogno degli occhiali Ma questo non ha nulla a che vedere con la sua intelligenza La sua capacità, insomma Parlando della vera piaga di questo corso E' stato in realtà l'esame Era un esame scritto a crocetto Ok, una cosa molto easy Un po' ci ha dato Ci è dispiaciuto il fatto che fosse un esame Che poi abbiamo scoperto il giorno dell'esame Essere di sole 15 domande Ok, 15 domande Più che altro ci è dispiaciuto Perché sono un po' pochine Vuol dire che se ne sbagli una Non ti scala il voto di un punto Ti scala di due, tre punti, capito? Quindi questa cosa ci ho un po' dispiaciuta Il punto è che erano 15 domande A risposta multipla in 30 minuti Noi abbiamo letteralmente finito Nel giro di un quarto d'ora E ci sta anche Ma poi per poter sapere il risultato E firmare abbiamo aspettato 4 ore Noi abbiamo finito alle 9 e un quarto Abbiamo aspettato fino all'1 e 10 Per poter firmare E abbiamo semplicemente aspettato Cioè seduti a non fare nulla Perché praticamente nello stesso giorno La professoressa aveva da fare esami Anche con altri due corsi Uno di questi due Che era quello di psicologia appunto Dovevano fare sia lo scritto che l'orale E ha deciso di fare la parte orale a loro Prima di fare firmare noi E noi abbiamo aspettato 4 sacrosantissime ore Che interrogasse a quelli Ma dico Noi per firmare che eravamo 70 persone Ci abbiamo messo complessivamente 40 minuti È molto molto poco Ora ma ti prendi 40 minuti Fai firmare noi Liberi l'aula Liberi il corridoio Che non ci sono più persone lì Ad aspettare Ci liberi in generale Perché c'erano anche persone che avevano impegni Persone che dovevano darsi altri esami Insomma un casino Ci liberi Quelli nel mentre si prendono una boccata d'aria Che hanno appena fatto un mezzo esame Si vanno a pigliare un caffè Si vanno a pigliare qualcosa Si ripassano Perché comunque ripassano Fanno Ah nel test c'era questa domanda Non ho saputo rispondere Ora me la studio Ripassano e si rilassano un attimo Così poi finisci di far firmare noi Ritorni da loro E loro hanno anche poi il tempo Non hanno la fretta di Ah devo andare a far firmare gli altri E quindi possono anche farsi l'esame con calma Senza inutili frette No Abbiamo aspettato 4 ore E niente Video breve in realtà Però ripeto È stata una materia che non me la sono sentita particolarmente Non me la sono sentita particolarmente Soltanto questa cosa finale dell'esame È stata un po' così Ma per il resto un po' indifferente Diciamo Non so Fatemi sapere che cosa ne pensate voi Se voi l'avete mai studiata Che facoltà fate Che materia avete studiato Insomma Che è sempre uno spunto molto interessante E niente Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Condividete Recuperatevi gli altri video Delle altre materie qui sopra E iscrivetevi al canale Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti